5.000 euro in contanti sono stati rinvenuti nascosti in varie parti della casa di Sesto Grilli, il pensionato di 74 anni trovato morto nella notte tra domenica e le unidì, legato ed imbavagliato con il nastro adesivo nella sua abitazione nelle campagne di San Lorenzo in campo. I soldi sono stati rinvenuti dai carabinieri che hanno perlustrato minuziosamente la casa, piena zeppa di oggetti e mobili, divisi in piccole somme, erano in vari posti, una cartella, un cassetto e così via. Una somma abbastanza insolita, secondo gli investigatori, per un imbianchino in pensione come Grilli, ma compatibile con il suo stile di vita, molto sobrio e senza eccessi o spese particolari. Non spendeva quasi nulla, dicono i vicini. Il ritrovamento del denaro indebolisce la pista così più consistente, e cioè che il pensionato sia morto, non si sa ancora bene le cause, anche se la procura di Pesaro protende per l'omicidio, durante un furto o una rapina finiti male. In attesa dell'autopsia, dopo un primo esame del cadavere, il periodo del decesso è stato fissato alla notte tra sabato e domenica. Grilli era tornato a casa dopo una serata in compagnia di amici, quando un vicino di casa lo ha trovato circa 24 ore dopo e ha dato l'allarme, indossava ancora il pigiama.